Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Oggi andiamo a vedere un gameplay con la corazzata italiana Premium Giulio Cesare, nave di livello 5 Prima di andare e di entrare nella partita, ci tengo subito a dire una cosa Alcuni di voi mi hanno chiesto come mai non è presente la Giulio Cesare nel Premium Shop Queste navi non sempre sono presenti nel Premium Shop, la Giulio Cesare come altre Quindi dovete beccare il momento giusto e trovarla per l'appunto nel Premium Shop Il matchmaking, allora siamo in plotone con Vuela che propone la sua Prince Eitel La corazzata Premium tedesca di livello 6 che si può sbloccare tramite le varie direttive presenti in questo periodo Il matchmaking propone fondamentalmente navi di livello 6 quindi diciamo che siamo leggermente sfavoriti Però la Giulio Cesare come ho sempre detto è una nave così potente che può gestire anche per assurdo le navi di livello 7 Abbiamo 4 caccia torpedinieri in totale Abbiamo poi anche molte corazzate tedesche tutti quanti a fare le missioni evidentemente Abbiamo contro un plotone composto da 3 persone quindi da questo punto di vista abbiamo anche uno svantaggio 2 contro 3 Un'altra cosa molto importante è che durante la partita ovviamente stavamo collaborando e parlandoci per cercare di capire un pochino la giusta tattica Allora caccia torpedinieri verso il settore centrale vediamo se riescono a cappare Loro possono i nemici facilmente bloccare il cap tramite l'isolotto presente in E6 Ti metti lì dietro e non c'è modo di spottare il caccia torpedinieri nemico se non avanzando da questo lato per esempio Abbiamo poi una Kirov su questo lato Una Kirov l'incrociatore sovietico di livello 5 se ricordo bene Sì di livello 5 che in qualche modo vediamo se ci dà supporto Cerchiamo di puntare immediatamente la corazzata tedesca Abbiamo fatto per il momento 1584 danni Andiamo ad assorbire 3583 Continuiamo ad avanzare C'è un piccolo scontro tra i cacciatori perinieri Vediamo subito la Fubuki che riceve qualche colpo La New York va a timbrare il nostro incrociatore inglese Subito una perdita per la nostra squadra Punteggio di 400 a 485 Siamo nella modalità epicentro vi ricordo Quindi abbiamo tre cerchi da dover conquistare Ovviamente se ci sono le navi all'interno non si possono conquistare Ripeto anche un pochino le basi del gioco Magari perché vedo nuovi iscritti, nuovi giocatori Quindi è giusto ogni tanto ricordare tutto quanto Continuiamo ad avanzare Cerchiamo di sfondare sul lato destro Lato destro che a quanto pare propone un incrociatore Penso che fosse AFK secondo me Perché è spuntato così dal nulla Nel frattempo dovrebbe esserci anche un cacciador pediniere in alto a destra Quindi 1-1 a darci fastidio è presente E qui secondo me la Kirov poteva avanzare molto velocemente sulla colonna 10 Proprio perché era presente il cacciador pediniere È presente il cacciador pediniere Fortunatamente i siluri sembrerebbero essere troppo corti Quindi andiamo ad evitarli molto elegantemente Abbiamo sempre l'incrociatore a 9400 punti Il punto di K viene ancora conteso Una battaglia infinita tra i nostri cacciador pedinieri Purtroppo dobbiamo risolvere la pratica Incrociatore e cacciador pediniere Anche se la tattica nuova prevede di tornare indietro E di non seguire il cacciador pediniere Perché seguirlo sarebbe davvero una perdita di tempo Più che altro dovrebbe andare, ripeto ancora una volta, la Kirov Sta un po' laggando nel replay fantastico Un cacciador pediniere tra l'altro molto pericoloso Come quello tedesco di livello 6 Finché lo azzeriamo ci mettiamo davvero molto molto tempo Una cosa un po' brutta è che propongo il camuffamento quello francese Perché mai avrei dovuto mettere un camuffamento francese sulla nave italiana Perché il camuffamento francese, questo nello specifico Mi va a dare 30% in più di crediti Crediti che mi servono per completare l'ultima direttiva Per poter ottenere la nave tedesca Solo per quel motivo Eh scusate però ogni tanto ho la voce che se ne va e la devo schiarire Cerchiamo di andare sulla Fusion Dobbiamo assolutamente impedire la cattura dell'epicentro Epicentro molto difficile da cappare e anche da difendere Dipende dai punti di vista La nostra Warspite va a timbrare l'incrociatore di livello 5 francese E però adesso arriva diciamo la parte difficile della partita Perché arrivano tutte le corazzate Guardate quante sono Tutte sul settore di sinistra Noi nel frattempo abbiamo lasciato quel cacciador periniere Quello tedesco famoso In alto a destra Quindi noi sappiamo comunque che dietro di noi c'è un pericolo Pericolo che dovrebbe in qualche modo essere gestito Dalla Kirov Kirov che non la vedo molto sicura Abbiamo la Muzuki che cerca una retromarcia Abbastanza improbabile se devo essere sincero Abbiamo perso un altro cacciador periniere purtroppo Vediamo un pochino se riusciamo in qualche modo Ad aiutarlo Però effettivamente elevare 31.000 punti vita A una corazzata di livello anche superiore È davvero impossibile Qui diciamo che in tutti i modi cercavamo di far capire alla Kirov Che deve andare su quel cacciador periniere Che finalmente viene spottato Andiamo a fare circa 7.000 totale su quella corazzata Abbiamo una inferiorità numerica di due navi Che sinceramente si potrebbe far sentire a lungo andare Dobbiamo chiudere immediatamente questa corazzata davanti a noi È rimasto con circa 22.000 punti Abbiamo anche la Muzuki Guarda che bella come sta laggando Perché ogni tanto mi lagga? Perché mi devi rovinare il replay? È colpa del replay ve lo posso assicurare Perché durante la partita non stava assolutamente laggando Vabbè le magie del replay Che ultimamente mi fanno impazzire Vi ricordo ragazzi Un po' di pubblicità è doverosa Se non siete iscritti al canale Mi raccomando iscrivetevi Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video Se è possibile una condivisione Poi Se volete abbonarvi al canale Supportarmi da quel punto di vista Trovate il link In descrizione Andiamo a chiudere la Gnevni No anzi è la Gnevni che chiude la Muzuki Rimane la corazzata a 291 punti vita Che viene prontamente timbrata da Vuela Per il momento abbiamo fatto solo Solo 18.435 punti Un colpo devastante della Fubuki Mette la parola fine Alla partita della corazzata tedesca E adesso è il momento di dare Tutti i punti vita che abbiamo No sono i cacciatori perinieri che laggano Fantastico Dobbiamo dare i punti vita che abbiamo Tra l'altro la domanda mia è la seguente Se noi fossimo andati a sinistra Come si sarebbe voluta la partita? Perché avremmo incontrato direttamente le corazzate Mentre sul lato destro abbiamo incontrato Solo un incrociatore Una corazzata che poi se n'è andata E il cacciador pediniere che nel frattempo Nel frattempo me lo sono perso Ha distrutto la nostra Kirov No dico serio Il cacciador pediniere ha distrutto La Kirov full vita Quindi davvero una cosa ottima Dobbiamo affrontare Una corazzata di livello 6 Davanti a noi Considerando che arrivano Arriveranno a sua volta Altre corazzate di livello 6 Quindi Dobbiamo assolutamente Giocarcela 5 contro 5 Non ci sono scuse Dobbiamo avanzare Abbiamo fatto una kill Abbiamo fatto quasi 30.000 danni Molto pochi Pochissimi Però Per quello che avevamo sul lato destro Direi che sono anche troppi Massima velocità E qui Decidiamo di andare Uno sulla sinistra E uno sulla destra In modo tale che la Prince La Prince Eitel La corazzata davanti a noi Non ha via di scampo Quell'altra corazzata Guardate la posizione Rispetto anche ai nemici Si mette un po' male 4830 Non è lato pieno È leggermente inclinata Il nostro avversario Infatti lo penetriamo Fino a un certo punto Cerchiamo in qualche modo Di beccarlo Dobbiamo assolutamente Distruggerlo Rimaniamo in partita 4 contro 5 3 corazzate E un cacciador periniere Un cacciador periniere loro Quello famoso Quello famoso tedesco 3 corazzate E un incrociatore Cerchiamo anche di mettere fuori uso Se dovessi riuscirci I cannoni del nemico Perché mettere i cannoni Del nemico fuori uso Potrebbe essere anche Un'ottima cosa Indietreggiare Beh Sì e no L'indietreggiare Abbiamo ancora la P Sfortunatamente Quindi Devo cercare di sparare Alla sovrastruttura Della nave E non Alla Alla parte bassa 3541 E un cannone Penso disabilitato Vediamo un attimo Fortunatamente Qui la loro New York Non sembra molto presente Nel gioco Anzi E' un po' distaccata E meno male Almeno questo Perché già avevamo la Kirov Che si è fatta distruggere In più mettiamo la New York Che uccide tutti Non mi sembra il caso I cannoni secondari Cannoni secondari Che Se ricordate bene Nel passato Sparavano le AP E io dissi Anziché le AP Potevano mettere le HE Perché non ha senso mettere Le AP Come armi secondarie Nella maniera più assoluta Perché Che danno possono mai fare Invece Con le HE Fai un minimo di danno E comunque Hai la possibilità Di incendio Molto molto importante Ancora una volta Non è il lato pieno Non è il lato pieno Però mettiamo fuori uso Un cannone Nel frattempo Uwe la sta tankando Che in termini Molto facili Significa Si sta prendendo Tutti i colpi lui Ecco Questo è una Per farvi capire Quello che sta succedendo Nel frattempo Io cerco di avanzare Sulla sinistra Guardate Non è il lato pieno Non è il lato pieno È un pochino Inclinato Quel tanto Che basta Per darmi fastidio Arrivano i siluri Del PERT E ragazzi Quando giocate Non è che dovete Scordarvi delle navi Abbiamo il PERT Sulla sinistra E quindi Io già sapevo Che dovevo rallentare Perché lui Mi sta guardando Al 100% Infatti Se non avessi rallentato Avrei mangiato I siluri Mi raccomando Fate attenzione Perché quando ci sono Gli isolotti E le navi avversarie Hanno i siluri Prevedete Il loro attacco Con i siluri Dobbiamo andare A timbrare La corazzata Vediamo se ce la facciamo Nel frattempo Armi secondarie Sulla PERT Finalmente Anche la corazzata Viene distrutta Adesso abbiamo Un vantaggio Di una nave Rimane solo La New York E qui ragazzi Veramente O penso La New York O penso All'incrociatore Però sinceramente Preferisco pensare Più ai siluri Della PERT Che ha i cannoni Della New York C'è ancora Il caccio d'orpediniere Nemico Caccio d'orpediniere Nemico Che lancia i siluri Contro di noi Guardate i siluri Guarda guarda Ci stava guardando E qui veramente Siamo stati Graziati Dal corto raggio Del caccio d'orpediniere Qui Chi è che deve intervenire Tra i quattro rimasti Ovviamente Il nostro caccio d'orpediniere Che deve andare a spottare Quello nemico Anche se è uno scontro Molto difficile Perché parliamo di una Fubuki Contro una Gaede Quindi Gaede Idro E quant'altro Però Ripeto Rimane solo lui Una volta che poi Viene spottato A supporto Due corazzate Due corazzate A supporto Però cosa Cosa fa questo qui La Fubuki Cosa pensa di fare Pensa di andare Dal lato opposto Cioè I siluri Arrivano contro Le nostre corazzate Che tengono in piedi La partita E lui decide Di andare Dall'altra parte Dove sta il Pert L'unica nave Che può affondarlo Cioè È una cosa davvero Impressionante Tra l'altro Senza contare La nostra corazzata Lì full vita Che anziché Darmi una mano Decide di andare Sulla New York A questo punto Ragazzi Veramente È più pericolosa Una Pert Che una New York Che fondamentalmente Non ha fatto nulla Arrivano altri siluri Vediamo se riusciamo A timbrare la New York Nel frattempo Qui purtroppo Uela Viene disintegrato Dai siluri Della Gaede E Gaede Che è praticamente Ha La totale libertà Nessuno può intervenire Se non Quella Fubuki Che ancora una volta Guarda Lui pensa Vabbè adesso prendo il cap Guarda Guarda dov'è È davvero vicinissimo 1970 Si sta muovendo Da una parte all'altra Potrebbe eliminarlo Molto facilmente Il Fubuki 1970 Lo andiamo a beccare Per altri 970 Penso Quindi È ancora In vita Per sua fortuna Si è fatto anche Spottare Tra l'altro E niente La Fubuki Prova a lanciare Siluri contro Una Pert A praticamente Quanti chilometri Saranno A 2 chilometri Di distanza E qui scrive in chat Vai a spottare Il cacciador Pediniere Valla a spottare Abbiamo un vantaggio Incredibile Perché dobbiamo Rischiare la partita Però no Lui Vuole affrontare Il Pert La Pert Vedete voi E lui scrive in chat Sono al momento Attaccato Da un incrociatore Beh se tu non fossi andato Nelle sue vicinanze Non ti avrebbe attaccato E io infatti Gli scrivo in chat Si è andato Dentro le sue torrette Cioè è quello Che è successo È quello Che è successo Lui è andato Lì consapevole Che avevamo Il cacciador Pediniere Alle spalle Allora Situazione attuale Due corazzate Contro Un cacciador Pediniere E un incrociatore Cacciador Pediniere Non si può spottare A meno che non fa Qualcosa di Un suo errore Infatti adesso viene spottato Cioè vabbè Il cacciador Pediniere anche qui Fa una cosa buona E fa Dieci cose cattive E poi rimane L'incrociatore E qui veramente Glielo dico in chat Senti secondo me Tu Non sai giocare Perché se tu vai Contro un incrociatore E non mi chiudi Il cacciador Pediniere Sinceramente Mi viene Da dirti Che non sai giocare Sinceramente Questa Perlomeno È la mia È il mio pensiero Mi ha fatto veramente Girare Le scatole Durante la partita Perché veramente Mette a rischio Una collaborazione Durata 17 minuti Cioè io In 17 minuti Io e Guela Abbiamo tenuto in piedi Una partita Tancando Prendendo i colpi Distruggendo Poi arriva lui E ci rovina La partita Cioè non funziona così Ci vuole un po' di collaborazione Confederato Poi vabbè In chat dice Bella mira Puole in qualche modo Infastidirmi Ma ormai Ho detto ciao Una volta che dico ciao E ciao Dobbiamo affondare Il pert Finalmente La corazzata Distrugge il gaede Che non so per quale assurdo motivo Anche lui si fa spottare E il pert Comunque Sta giocando abbastanza bene Perché Rallenta Avanza Rallenta Avanza Ciò nonostante Anche se dovesse affondarmi Avremmo sempre Una Una corazzata Praticamente Full vita Però il concetto è Che devo riuscire Ad affondare Questo Incrociatore Confederato Comunque ripeto Ancora una volta E un riconoscimento Che sta a testimoniare La presenza Nella partita Qui provo una virata Una virata Un po' troppo Lenta Ragazzi Video terminato Grazie per l'attenzione Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao